Ciao Scusami Cosa? Ho fatto tardi Già I capelli Mi stai tirando i capelli Scusami Ha telefonato qualcuno per te oggi Si è gelato Chi? Non lo so Uomo o donna? Uomo Ma che voleva? Non me l'ha detto Voleva te Ti sposti Puoi per favore? Spostarmi, si Allora, la cosa c'è? Sono talmente stanca Ma perché sono sempre così stanca? Non lo so Siamo tutti stanchi Il mondo è stanco, lo so Ma non faccio Allora, la cosa c'è? Grazie.